Gli sportivi comaschi traslocano dal rudere di Muggiò al Palazzo San Pietro di Casnate con Bernate, struttura che aveva smesso di ospitare gare e allenamenti dal maggio del 2011. Con questa convenzione, stretta tra la società comense e il comune di Como con il nulla osta di Casnate con Bernate, Palazzo Cernezzi ha trovato quindi una soluzione temporanea alla mancanza di un palasporto in città. La struttura di Muggiò, che versava in condizioni a dir poco pietose, è stata chiusa. Era ridotta così male da renderne praticamente impossibile il recupero e i soldi per un nuovo palazzetto non ci sono. La scelta di stringere una convenzione per il Palazzo San Pietro, ha detto il sindaco di Como Mario Lucini, viene da due diverse situazioni. Da una parte Muggiò era ormai inutilizzabile e non possiamo pensare in tempi rapidi di costruire un nuovo palasporto. Dall'altra lasciare vuoto il Palazzo San Pietro era un peccato. Delle società che si allenava alla Muggiò, per ora due, Antoniana e Albatese, squadre di basket, traslocheranno a Casnate. Le altre società hanno trovato sistemazioni principalmente nelle palestre delle scuole di Como. L'utilizzo del Palazzo San Pietro, con una convenzione di due anni, costerà al comune di Como 65 mila euro. Le tariffe per le società resteranno praticamente invariate, è stato previsto un arrotondamento a rialzo di pochi euro. Non è stato semplice perché andare a cercare fuori città, fuori dal nostro territorio, una struttura è sembrato all'inizio una situazione non ottimale. Però in effetti poi ragionandoci bene ci siamo resi conto come questa nostra esigenza rispondeva anche a un'esigenza dello spazio che non rimanesse inutilizzato. Il Palazzo San Pietro tornerà quindi ad ospitare atleti e palloni dopo due anni e mezzo di inattività. Quanto da me voluto e fatto rappresenta quelli che sono come sempre stati i miei sentimenti di aiutare i ragazzi, in tal caso la gioventù comasca, ad essere in grado di praticare lo sport.